Salve a tutti bella gente, benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Manzieri Mie e oggi siamo qui in questo nuovo video per andare a scoprire cosa si c'era all'interno della quindicesima scatolina del nostro calendario dell'avvento pandoroso Iscrivetevi al canale e mettete like subito! Non induggiamo oltre, la sorpresa di oggi è... Tada! Ecco qui un altro piccolo capolavoro pandoroso, old ovviamente, è una murrina che io ho comprato usata, infatti se vedete al centro qui nel buchino dove starebbe il pistillo del fiore ci sono delle macchie che purtroppo non sono riuscita a togliere Ma comunque è veramente graziosissima perché è fatta innanzitutto di questo rosa stra carino e poi allora il fondo è un rosa più chiaro con tutte queste pagliuzze argentate riflettenti Mentre poi ci sono questi fiorellini un po' a rilievo come faccio a farvelo vedere Ecco vedete c'è i petali dei fiorellini, sono a rilievo E poi rientrano, c'è l'incavo dove sarebbe il pistillo, proprio come se fosse un fiorellino vero È bellissima anche al tatto Da questo lato c'è la punzonatura Ecco qui Spero che renda la ripresa, renda l'idea di come sono questi fiorellini Cioè i petali sono proprio tutti bombati in 3D È veramente un amore questa murrina davvero dolcissima E niente, io non ho più nulla da aggiungere Si aggiunge alle altre due murrine che già abbiamo visto negli scorsi video Per andare a fine appunto su questo progetto qui che stiamo componendo giorno per giorno insieme Quindi nulla bella gente, io vi saluto e vi aspetto domani con il prossimo video Ciao Ciao